Ciao a tutti e benvenuti a questo primo ciclo di webinar che organizzeremo con il GIS Interesse Speciale del gruppo Ostetrica e SIRU. Siamo molto contenti di accogliervi e di iniziare questo percorso insieme perché finalmente siamo partiti come gruppo attivo anche all'interno della società scientifica. Ringrazio i relatori che sono qui presenti e oggi affronteremo una tematica che è molto interessante, ovvero il punto di vista di chi si prende cura della coppia nel momento in cui affronta un percorso di infertilità. Modelerà con me la sessione la dottoressa Maria Santo che è il coordinatore del GIS della SIRU. Per chi non mi conoscesse rappresento la professione ostetrica a livello nazionale all'interno di questa società scientifica. Prego Maria, grazie. Buonasera a tutti. Io non voglio ripetere, non mi voglio ripetere, nel senso che Valentina ha già dato due input. Comunque io voglio dire solo questo. Voglio dire che comunque noi stiamo dimostrando che siamo quasi indispensabili all'interno di un servizio di PMA. E quindi così come volevamo praticamente perché personalmente insieme al dottore Guillermino e insieme alla dottoressa Nibali che presenterò fra poco abbiamo creato questo gruppo di ostetriche che nel frattempo è di questo gruppo all'interno di una società scientifica. e che nel tempo, e sono contenta perché poco fa chiedevo a Valentina quanto fossimo oggi, mi parlava insomma di un numero importante, mi pare di capire, no? Assolutamente sì, già iscritti al webinar siamo già trentasei. Iscritti alla società scientifica come gruppo professionale siamo nell'ordine della trentina. Quindi voglio dire, non è il massimo ma è un successo sicuramente. Quindi siccome appunto nell'immaginario comune probabilmente l'ostetrica veniva vista solo ed esclusivamente e perché no, anche lo stesso ostetrica a volte si vedono solo ed esclusivamente in una sala a parto, noi stiamo dimostrando che invece andiamo oltre. Pertanto io passo subito alla parola alla dottoressa Nibali che è la coordinatrice del Centro ERA di Catania che ci parlerà della comunicazione personalizzata alla coppia nel percorso di una PMA. Daniela? Presente, grazie a tutte per la partecipazione. Mi scuso se ho disattivato la telecamera ma mi sono detta conto che non funziona, quindi concentratevi sulla presentazione. Allora, ok, scusate. Perfetto. Allora, abbiamo detto che oggi iniziamo questo percorso focalizzando la nostra attenzione alla presa in carico della coppia. E allora, da dove partire? Partiamo dalla comunicazione personalizzata durante il percorso della risoluzione medicalmente assistita. Ci ho riflettuto e mi sono presa conto che effettivamente risulta quasi impossibile non comunicare. Penso che lo facciamo anche mentre dormiamo e infatti pensiamo a dei neonati che durante il loro sonno possono sorridere o mettere il broncio. In questo modo noi percepiamo quelle che sono le loro sensazioni. Però comunicare non è solo questo. Comunicare non è esclusivamente un sorriso, un pianto, un broncio. Comunicare è ben altro. Anche se da un certo punto di vista lo possiamo considerare come una dodennata. Ma è una dodennata saper trasmettere il concetto che vogliamo comunicare? È una dodennata comprendere quello che ci stanno dicendo? Forse no, effettivamente. Infatti comunicare non è semplicemente informare, non è semplicemente pronunciare o scrivere delle parole. Per mettere in atto una comunicazione efficace necessariamente dobbiamo entrare dentro la sfera cognitiva del nostro interlocutore. La comunicazione avviene quando l'espressione è compresa, diventando un patrimonio comune, quindi riuscendo a costruire una relazione, una discussione. E nell'ambito sanitario la comunicazione è fondamentale per poi condividere il percorso. Questo cosa significa? Significa che la comunicazione in ambito sanitario necessariamente deve tenere in considerazione tanti aspetti, tanti fattori che interferiscono nella relazione medico-paziente. Infatti la medicina moderna enfatizza questo processo decisionale che passa attraverso una discussione attiva. Mentre fino agli anni 50 il modello utilizzato era più che altro centrato sulla malattia, cioè il medico non prendeva in cura il paziente, il medico si focalizzava sui sintomi, sulla patologia. La comunicazione era una comunicazione unidirezionale e lo schema che seguiva il medico era uno schema standardizzato, quindi al centro non c'era il paziente ma c'era la malattia. Il vero protagonista era il medico dopo c'è stata un'evoluzione e si è passato dall'orientamento alla malattia all'orientamento alla relazione. In poche parole, come sappiamo tutte, si è passato dal to cure al to care, cioè dal curare al prendersi cura. Entra in gioco così la cosiddetta agenda del paziente, che brevemente significa come il paziente vive la sua malattia e quindi significa prendere in considerazione l'aspetto emotivo del paziente, i suoi sentimenti, le sue aspettative, le sue idee. Allora significa anche un'evoluzione dal punto di vista comunicativo, si parte da una comunicazione unidirezionale a una comunicazione bidirezionale. Sicuramente questa tipologia di comunicazione ci aiuta dal punto di vista clinico perché migliora la curatezza diagnostica, ma va anche a favore del paziente, aumenta la compianza. Comunicazione bidirezionale significa che il medico e il paziente devono interagire durante questa comunicazione, non c'è semplicemente un elenco di indagini, di esami, di approfondimenti diagnostici da eseguire in posti quasi alla coppia. No, c'è la comprensione del percorso, c'è il capire perché mi stai facendo fare questo, perché prima di passare alla fase successiva io devo necessariamente fare questo esame. E quindi c'è anche l'ascolto del medico, non è solo ascolto da parte del paziente. E allora dobbiamo porre attenzione a qual è il messaggio che vogliamo fare arrivare, a come lo facciamo arrivare, al nostro metodo di comunicazione, mettendo in primo piano l'individualità del paziente. Questo significa in poche parole valutare il contesto sociale, il contesto culturale, anche l'aspetto religioso che caratterizza quel paziente. Quante volte ci rendiamo conto che il paziente che abbiamo di fronte può essere un paziente triste, un paziente invece arrabbiato. Ecco, queste sono tutte considerazioni che devono essere mantenute durante il nostro rapporto con il paziente. Quindi l'ascolto attivo è una componente fondamentale nella comunicazione medico-paziente. Ascolto non solo delle parole pronunciate, ma ascolto anche in riferimento a quello che è il verbale e il paraverbale, il tono di voce, il timbro, la postura, tutto questo è elemento indispensabile affinché cosa dice il paziente coincida con cosa sente il medico e viceversa. Ma se dobbiamo esplorare le esigenze, le aspettative dei pazienti, ricordiamoci che a questo punto questo significa non solo tenere in considerazione le esigenze della donna, non solo le esigenze dell'uomo, ma noi abbiamo di fronte, io lo dico spesso, una terza entità costituita dalla coppia in sé. Dobbiamo valutare se all'interno della coppia ci sono degli squilibri, se ci sono delle crisi. Dobbiamo quindi relazionarci alla coppia anche in considerazione della loro vita intima. E poi naturalmente non scordiamoci che anche il nostro atteggiamento interferisce in questa relazione. Se ci poniamo con un atteggiamento troppo severo, troppo autoritario, allora sicuramente già il paziente è carico di ansia per la situazione che vive. In questo modo noi inibiremo ancora di più, impediremo la libertà di esprimere apertamente le sue aspettative. Stiamo attenti anche a non interromperlo durante il dialogo, non rispondiamo magari a un messaggino, cerchiamo di evitare le interferenze dall'esterno. Tutto questo è importante durante la comunicazione, tutto questo è necessario per creare empatia e per far capire al paziente che noi effettivamente non siamo focalizzati all'esecuzione di una tecnica, ma stiamo cercando di prenderci cura a 360 gradi del suo caso. Purtroppo però nonostante tutto il nostro impegno, la letteratura ci dice che la parte dei pazienti che hanno seguito un percorso di rivoluzione medicamente assistita continuano ancora ad essere insoddisfatti rispetto alle informazioni, alla qualità della comunicazione che hanno ricevuto durante il loro percorso e i punti deboli sono stati riscontrati un po' in tutte le fasi del percorso. Perché? Perché c'è questa difficoltà nella comunicazione medico-paziente. A volte è perché è causata dalle differenti prospettive. Cioè se il medico perde di vista quello che ho detto finora, perde di vista le esigenze, le aspettative, i sentimenti del paziente che si trova di fronte e si focalizza troppo sull'aspetto pratico, l'aspetto clinico, sicuramente non riuscirà mai a creare empatia, non riuscirà mai a legare con il paziente, che lo considererà semplicemente un tecnico dato che non pone attenzione ai suoi aspetti motivi. Questo è uno studio che ho trovato molto interessante. È recente, di marzo. Diciamo che ha dei limiti perché in realtà il campione dei partecipanti è abbastanza ridotto. Però è interessante perché è stato condotto attraverso delle interviste che hanno coinvolto sia operatori del settore che pazienti che avevano eseguito o stavano seguendo il percorso della riproduzione medicamente assistita. Le interviste sono state effettuate attraverso la piattaforma Zoom e quindi hanno dato agli intervistati la libertà di espressione, la libertà di poter chiaramente dire ciò che avevano provato durante il percorso effettuato. E cos'è emerso? È emerso che nella comunicazione medico-paziente ci sono numerosi silenzi, ci sono parole che il medico non dice e ci sono significati che il paziente non sente. Anche quei pazienti che pensavano di essere stati edotti su ogni fase del percorso, in realtà poi si sono trovati impreparati di fronte a alcune realtà meno tangibili del trattamento. Questo perché può succedere? Può succedere perché in alcuni casi risulta davvero difficile riuscire a comunicare, a parlare di alcune esperienze fin quando non vengono viste direttamente. Mentre in altre situazioni le informazioni possono essere o fornite in maniera errata o inquadrate in maniera errata. Ad esempio, il medico consapevole del fatto che la coppia porta addosso un carico emotivo molto pesante sono pazienti che non si sentono spesso realizzati in quanto non sono riusciti a concludere il loro percorso con la realizzazione di una famiglia con figli. Allora, per cercare di mantenere fiduciosi, motivati, non aumentare la loro angoscia, il medico potrebbe minimizzare alcuni aspetti del percorso. Oppure i pazienti potrebbero, come detto, interpretare male quanto gli viene spiegato o essere proprio non disposti a sentire quanto il medico gli sta dicendo o non in grado. È difficile a volte capire termini medici. Mentre in alcuni casi, giustamente, è difficile accettare la diagnosi. Qual è quella donna che accetta di buon grado una diagnosi di tirotta riservo ovarico, di menopausa precoce? Chi è quell'uomo che accetta di sentirsi dire che è aziosfermico? Naturalmente, quindi, l'aspetto emotivo, in questo caso, ha un forte impatto nella comprensione, nell'accettazione di quanto il medico gli sta dicendo. Ma, ancora, c'è da dire che a volte i pazienti, siccome vedono nella riproduzione radicalmente assistita l'unica possibilità per realizzarsi dal punto di vista nel raggiungimento di una gravidanza, tendono a soffocare ogni loro pensiero onde evitare di interferire con la scelta terapeutica proposta dal medico. Oppure, ancora, c'è da dire che i pazienti potrebbero essere stati così condizionati da informazioni avute precedentemente da essere riduttanti poi nei confronti del medico. ma il percorso, comunque, che seguono è un percorso abbastanza articolato che prevede diversi consulti, diverse indagini quindi è un percorso che ci dà tante possibilità per agire sull'accettazione del percorso e sulla condivisione del percorso. Innanzitutto, il primo incontro, la consulenza sull'infertilità è una consulenza particolare, diversa dalle altre consulenze. Infatti, non è tanto orientata alla ricerca di sintomi o alla ricerca di patologie. Da un certo punto di vista già sappiamo qual è la patologia di cui è portatore il paziente e l'infertilità verrà poi la diagnosi della causa di questa infertilità ma il focus centrale è un desiderio non soddisfatto nella loro vita e quindi possiamo davvero dare tanto spazio alla voce dei pazienti. Da qui possiamo cominciare a capire qual è il target del paziente che ci troviamo di fronte anche dal punto di vista emozionale. Ci capita di avere di fronte pazienti arrabbiati perché vengono da esperienze passate che li hanno delusi. Ci capita di avere pazienti invece assolutamente felici di ritrovarsi di fronte a un medico perché vedono finalmente vicina la possibilità di raggiungere il proprio obiettivo. E poi sfruttiamo anche appunto come detto ogni fase diagnostica che sicuramente è impresa di emozioni, di ansie lo stress aumenta, le domande aumentano sfruttiamo ogni occasione per far esprimere al paziente le sue replessità e fornire loro rassicurazioni. Allora, se la comunicazione personalizzata passa attraverso il riconoscimento e la soddisfazione dei bisogni dei pazienti in modo tale da pianificare degli interventi efficaci aumentare l'empowerment del paziente e promuovere anche standard di cura incentrati sul paziente è necessario che mettiamo in atto un vero e proprio colloquio cioè un vero e proprio scambio di debbi e opinioni. basiamo la conversazione su obiettivi valori, aspetti che possono facilitare o compromettere il percorso diamo la possibilità a entrambi tra virgolette perché sappiamo in questo caso i diretti interessati sono tre medico, donna, uomo diamo la possibilità a tutti di esprimere le proprie preoccupazioni di condividerle per arrivare a una scelta consapevole del percorso e non basiamoci quindi semplicemente su un elenco di rischi esami percentuali che devono essere accettati passivamente dal paziente e quindi una comunicazione personalizzata è una comunicazione in cui l'informazione deve essere basata sulla tipologia del paziente che abbiamo di fronte deve essere una comunicazione partecipata, lenta sfruttiamo anche la medicina narrativa facciamo degli esempi magari prendendo spunto dalla professione del paziente in modo tale che il concetto sia chiaro rimanga bene in mente utilizziamo termini comprensibili naturalmente ascoltiamo e facciamoci ascoltare e naturalmente verifichiamo che il paziente abbia compreso non diamolo per scontato non perché abbiamo fatto un consulto di un'ora significa che il paziente esce poi dall'ambulatorio consapevole di tutto ciò che gli abbiamo detto questo cosa significa? una comunicazione personalizzata di sicuro non garantisce il successo del trattamento ma aiuta la coppia a vivere ogni fase con maggiore consapevolezza di conseguenza riduce l'impatto che l'aspetto sociale, comunicativo, cognitivo in merito alla loro condizione di pazienti infertili grazie Daniela mi sentite? ringrazio tantissimo per questa presentazione non so se qualcuno tra il pubblico ha delle domande non le vedo scritte in chat io credo che hai toccato temi importantissimi e che Francesca, la dottoressa Piazzini con la relazione successiva sicuramente affronterà sotto un aspetto diverso Maria tu vuoi aggiungere qualcosa? io volevo esattamente dire quello che hai detto tu mi hai solo anticipato perché volevo ringraziare Daniela e poi lascio tutta te così che fai sicuramente insomma riesci a farlo anche meglio di me e dico ringrazio Daniela che come sempre è chiara e forse eravamo rimaste le domande e le portiamo a dopo per tutte e tre la discussione la facciamo dopo la facciamo a fine di ogni relazione perché credo, non lo so a meno che non ci siano interventi diretti imminenti da fare alla relatrice secondo me possiamo andare avanti col filo conduttore delle relazioni e farle in fondo non ne leggo nessuna in chat al momento per questo ho detto che si poteva andare avanti sei d'accordo? sì sì se qualcuno poi pensa di farlo dopo lo può fare tranquillamente dopo ecco ecco c'è subito una domanda però allora leggiamo un attimino Federica perché secondo me con le tre relazioni poi è più utile anche magari avere tutti e tre i punti di vista proprio in base anche alla domanda fatta salve a tutti spesso la coppia viene da me a chiedere delle lucidazioni in merito a quello che gli è stato detto nel colloquio col medico allora proprio in virtù di questa domanda direi che sarà utile ascoltare la relazione della dottoressa Piazzini e della dottoressa Cuccetti perché magari ci danno anche qualche strumento in più per fare un dibattito quindi a questo punto Federica rimanga con noi collegata e invito a parlare la dottoressa Piazzini che è un'ostetrica lavora in un centro PMA pubblico si occupa da diversi anni della salute delle coppie precedentemente ha lavorato in area nascita e indigenza ostetrica nel Natale all'interno sempre di una struttura pubblica quindi ha visto proprio l'excursus di tutto il percorso materno-infantile di come la PMA effettivamente si integra e si sposa benissimo con questo percorso quindi prego dottoressa Grazie mille Valentina ringrazio il direttivo per questo prezioso momento di confronto e di comunicazione e soprattutto a dottoressa Nibali perché ha introdotto in maniera veramente egregia un concetto che non dovremmo mai stancarci di rimettere in gioco nelle nostre equip multiprofessionali sia nel rapporto nell'equip e che nel rapporto proprio con l'utenza che è quello della comunicazione posso iniziare a condividere le slide? Sì assolutamente prego Un attimo soltanto che ecco ovviamente avevo preparato tutto quanto e sono andata in giro eccole Allora Vediamo se ce la faccio è la prima volta su questo dispositivo infatti ero terrorizzata che non funzionasse qualcosa ma a quanto pare si vedono? Sì sì si vedono Prego Perché parliamo di coordinamento e gestione del percorso riproduttivo all'interno dell'equipo multidisciplinare parlando proprio dell'ostetrica perché l'ostetrica è una figura che può rappresentare non soltanto l'interfaccia più frequente con l'utenza ma anche un'interfaccia tra le varie figure professionali e i vari servizi che possono andare a comporre questo grande arcobaleno di figure che è inerente al percorso della procreazione medicalmente assistita e che può essere estremamente complesso perché in questo è racchiuso personale sanitario tecnico consulenti specialisti per cui la coppia si trova davanti non soltanto a un percorso estremamente complesso e diversificato ma anche da una serie di professionisti diversi che possono essere presenti lungo tutto il percorso o rappresentare per esempio degli spot laddove siano necessarie delle consulenze specialistiche per cui è fondamentale che ci sia una figura che possa rappresentare invece un elemento di continuità nell'equip multiprofessionale per la coppia che effettua questo percorso Nella PMA l'ostetrica esprime diverse competenze è stato effettuato lo scorso anno un lavoro estremamente interessante per la tesi di laurea magistrale della dottoressa Generali che proprio grazie al coordinamento della dottoressa Basile ha promosso un interessante focus group grazie al quale abbiamo potuto mettere a confronto le esperienze di diverse ostetriche provenienti da più centri d'Italia è quindi emerso che pur essendoci in comune tutta una serie di ruoli e di competenze quelle che poi sono le sfumature in cui si esplica l'attività dell'ostetrica nei vari centri sono dovute all'organizzazione principalmente dei centri stessi ma anche alcune peculiarità locali per esempio di tipo regionale a livello di quella che può essere rappresentata dall'offerta attiva per esempio dei livelli essenziali di assistenza per cui ci troviamo ad avere una serie di core competence di tipo tecnico professionale che nella procreazione assistita possono essere rappresentate da competenze assistenziali di base e per esempio anche competenze diagnostiche di tipo più avanzato che possono essere espresse in un centro come la PMA come per esempio le competenze a livello dell'ecografia office che può essere realizzata sia durante il monitoraggio follicolare che durante il supporto ecografico all'embrio transfer ecoguidato che nelle fasi iniziali della gravidanza finalizzata appunto all'accertamento della gravidanza clinica da parte dell'ostetrica per cui in questo panorama ci rendiamo conto di come appunto l'organizzazione possa trarre beneficio dalla presenza dell'ostetrica e come il fatto di strutturare dei percorsi delle procedure dove il ruolo dell'ostetrica sia declinato in maniera chiara per quel contesto possa essere sicuramente utile al professionista che si interfaccia per esempio per la prima volta con il servizio ma anche all'equip multiprofessionale al fine del riconoscimento del ruolo e anche della potenzialità della professionista in questo caso ho creato un un diagramma utilizzando come base quello che è l'organizzazione dell'ambulatorio di fisiopatologia e della riproduzione nell'ospedale di Careggi dove lavoro ma che in realtà grazie a questo focus group ho riconosciuto comune ad alcune delle realtà di cui hanno parlato appunto le colleghe dove troviamo l'ostetrica nel percorso assistenziale in PMA ho creato una circolarità perché come appunto diceva prima la dottoressa Nibali non sempre il trattamento porta alla conclusione del percorso perché non sempre purtroppo abbiamo il successo e quindi a volte può essere necessario intraprendere di nuovo il percorso oppure per esempio perché dopo un primo successo la coppia desidera avere un secondo bambino per cui l'ostetrica si trova in ogni area dall'area ambulatoriale dove generalmente inizia il percorso che può essere dell'ambulatorio di PMA omologa eterologa o di preservazione della fertilità femminile durante i monitoraggi che sono finalizzati appunto a poter realizzare il trattamento di PMA fino all'area chirurgica della procreazione assistita e successivamente al percorso ostetrico dove in base a quelli che saranno gli esiti del percorso ci potrà essere un follow up della gravidanza oppure una proposta di un nuovo percorso laddove non ci sia stato un successo la comunicazione resta un ambito trasversale a tutti questi a tutti questi momenti del percorso per cui come possiamo realizzare una comunicazione con l'utenza che caratteristiche dovrebbe avere dovrebbe essere appunto efficace in modo di avere la capacità di trasmettere le informazioni che dovrebbero essere trasferite appropriata appropriata alla persona che abbiamo davanti appropriata al contesto in cui ci si trova e infine strutturata questo scusate torno un attimo indietro il fatto che sia strutturata che cosa significa significa che si devono poter dare dei modi e dei tempi alla comunicazione per esempio potendo concordare un orario di apertura di un cup telefonico da condividere con l'utenza in modo che sia chiaro per esempio sulla pagina web o sulla modulistica fornita all'utenza quale sia il numero da chiamare l'orario in cui poter chiamare questo numero e quali siano i professionisti che rispondono oppure creare delle web mail dedicate per tipo di percorso avendo poi ovviamente cura che siano individuati i momenti e i professionisti dedicati a presidiare questi strumenti in modo da poter dare non soltanto un mezzo di comunicazione ma anche poi una risposta in tempi efficaci per poter comprendere meglio nei vari macro processi quale possa essere il ruolo dell'ostetrica sono andata adesso quindi a scorporare nelle aree che abbiamo visto nel primo diagramma quelle che sono le funzioni ricoperte dall'ostetrica nel percorso assistenziale iniziamo con la parte dell'assistenza al trattamento di pma come comincia non meno nella nostra realtà inizia tutto dalla proposta di intervento chirurgico non è altro che la cosiddetta messa in lista questo momento così atteso dalle coppie nel quale una volta effettuato tutta la parte complessa di assessment della salute viene quindi proposto un nuovo percorso anche soltanto telefonicamente l'ostetrica può effettuare un triage di tipo clinico perché soltanto per programmare per esempio l'ecografia all'inizio del percorso è necessario raccogliere delle informazioni cliniche quale per esempio l'ultima mestruazione e poter organizzare in base ai volumi di attività quella che è la prima visita della donna e della coppia in questo primo momento cardinale che nel nostro caso denominiamo ecografia in ventunesima giornata ma che è in realtà un'ecografia fatta nel periodo post ovulatorio prima che si inizi il ciclo di PMA vero e proprio esiste un check condiviso da parte di tutta l'equip della documentazione delle richieste degli eventuali esami in scadenza l'eventuale prova transfer da qui si andrà poi all'ecografia di monitoraggio questo momento inizia a essere fondamentale per il ruolo dell'ostetrica nell'educazione terapeutica infatti l'educazione terapeutica che rappresenta un importante contratto di transfer di competenze e di empowerment nei confronti della coppia deve essere effettuato in modo personalizzato e dandogli la giusta modalità e i giusti tempi in quanto le modalità ovviamente di terapia per il percorso di PMA possono essere più o meno complesse a volte con la sovrapposizione e sia della tempistica di alcuni farmaci diversi sia delle modalità di somministrazione o di device che possono risultare ostici magari a un primo confronto per cui la possibilità di vedere insieme il piano terapeutico di poter mostrare il device appropriato con il quale poi si dovrà effettuare la terapia a casa può essere un momento fondamentale perché da una corretta educazione terapeutica in questo momento può dipendere poi il successo o meno del trattamento di PMA nella linea telefonica dedicata di cui parlavamo prima una delle domande più frequenti avviene di solito il giorno dopo la prima ecografia ed è la signora che chiama e che ci dice allora io ho fatto ieri l'ecografia mi è stato dato il farmaco X ho preso la penna il farmaco Y ho preso le fiale però non mi ricordo devo portarlo al primo controllo come faccio oppure mi hanno dato la penna ma non ho gli aghi dove li trovo o ancora io pensavo di avere capito tutto ieri ma adesso sono a casa mi trovo da sola e mi sembra di avere una grande confusione in testa quindi il fatto di avere un momento di debriefing anche dopo la prima educazione terapeutica può essere importante perché giunta al domicilio la persona cosa farà altrimenti cercherà delle informazioni su dei canali informativi che possono essere non appropriati come per esempio banalmente andare su internet o su forum a cercare informazioni senza togliere il valore che questo può avere nella condivisione però nella terapia personalizzata è invece appropriato il fatto di avere un contatto con un professionista che possa visionare in diretta dalla cartella elettronica lo stesso piano che la persona in quel momento ha davanti e che quindi anche a distanza possa dare delle informazioni appropriate una volta terminato il percorso terapeutico si andrà quindi a pianificare il trattamento la terapia trigger e quindi a entrare in saloperatoria per quanto riguarda i trattamenti di secondo e terzo livello che rappresentano la stragrande maggioranza dei trattamenti di procreazione medicalmente assistita in questo caso la figura dell'ostetrica nel team multidisciplinare rappresenta la prima interfaccia con la coppia che quel giorno arriva a fare il prelievo ovocitario e in questo caso le prime fasi della identificazione e dell'assessment della corretta effettuazione della terapia o come abbiamo imparato negli ultimi anni dell'eventuale diagnostica per covid in modo da poter poi ridirimere il percorso in base al risultato rimane un momento fondamentale per la successiva appropriatezza del trattamento chirurgico in Toscana è stata redatta da parte del gestione del rischio clinico una checklist condivisa nella quale abbiamo al momento dell'ingresso in sala operatoria una condivisione fra professionisti per quanto riguarda l'identificazione della donna e della coppia alcuni parametri per esempio di sicurezza che vengono ovviamente firmati condivisi da tutta l'equip e poi inseriti nella cartella clinica e questo per esempio può essere uno strumento molto utile che ovviamente sul quale ovviamente devono essere formati i professionisti al fine di un utilizzo appropriato una volta terminato il prelievo vocitario l'ostetrica insieme al personale infermieristico in questo caso rimane responsabile quindi dopo la strumentazione e l'assistenza all'anestesista di tutta quella che è la valutazione postchirurgica e insieme al medico della dimissione e dell'informazione qui abbiamo un altro snodo dell'educazione terapeutica perché nel momento in cui dal prelievo vocitario si va per esempio verso il transfer oppure verso un congelamento degli embrioni o degli ovociti si dovranno dare nuovamente delle informazioni personalizzate e di educazione one to one e delle possibilità di contatto successivo arriviamo quindi quindi infine al termine del trattamento e come starà andata e qui si arriva alla gestione degli esiti clinici generalmente dopo un transfer embrionario o dopo un'inseminazione viene effettuato un test di gravidanza mediante determinazione esterica delle beta HCG viene offerta di solito la possibilità di farlo direttamente presso il centro però non è infrequente che ci siano accessi da parte di persone che abitano fuori dalla provincia o anche fuori dalla regione questo è accaduto soprattutto all'inizio dell'introduzione della PMA eterologa per cui si rende necessario creare un canale apposito che in questo caso sarà una mail in modo da poter reperire quelli che sono gli esiti clinici è l'ostetrica nel centro che si occupa di gestire la web mail e di controllarla in dei giorni orari ben definiti e non solo a livello organizzativo la coordinatrice individua chi è l'ostetrica responsabile del processo per quel giorno in modo che sia ben definito quale sia la persona di riferimento che si occuperà di questo particolare e importante momento dell'assistenza una volta ricevuti gli esami una volta inseriti in cartella ci si interfaccia con l'equipe medica a cui ovviamente starà la visione e la prescrizione e le indicazioni di quelle che sono le successive azioni da intraprendere ritorna quindi all'ostetrica uno dei momenti più importanti cioè la telefonata la telefonata con la quale si comunicherà a chi è effettuato le beta HCG nel centro se c'è o non c'è la gravidanza grazie al fascicolo sanitario elettronico che nella regione di Toscana è ormai diffuso in realtà nella maggior parte dei casi le coppie negli ultimi anni hanno già visionato l'esito così come per quanto riguarda le coppie che invece ci lo mandano da fuori dal centro comunque la telefonata rimane il momento in cui questo risultato assume un carattere di verità perché qualcuno che ha visto magari un esito negativo comunque continua a sperare di aver letto male o mi dice ma io ho visto dei valori di riferimento ma non so interpretarlo così come qualcuno che magari invece ha visto un esito positivo non ci crede non gioisce finché non diciamo signora lei è incinta per cui nel bene e nel male questo momento rimane uno dei punti cardine nel quale l'ostetrica dovrebbe dare un momento di ascolto e sostegno alla persona alla coppia che ha di là dalla cornetta laddove ovviamente il percorso sia andato in maniera positiva a quel punto si entra in una pianificazione di step successivi quali per esempio la successiva diagnostica per vedere l'andamento delle beta HCG e la pianificazione dell'epografia ostetrica per coloro che l'affettuano nel centro questa viene effettuata in collaborazione con il medico e da qui non avendo la possibilità di seguire direttamente le gravidanze per come è strutturata e organizzato il centro si indicherà alla coppia quale può essere il percorso più appropriato per quel tipo di gravidanza per esempio laddove si tratti di una gravidanza eterologa femminile magari o di una patologia preesistente che può complicare la gravidanza daremo indicazione per la medicina prenatale o le gravidanze a rischio mentre laddove non ci siano complicazioni particolari e magari la donna abbia già un ginecologo curante provvederemo a dare una relazione per indirizzarla al ginecologo in questa fase delle prime settimane molto spesso rimaniamo comunque il punto di riferimento per la gestione delle richieste urgenti dalla perdita di sangue al dolore addominale a qualsiasi dubbio ci possa essere o urgenza ostetrica vera e propria molto spesso prima ancora di recarsi in pronto soccorso le coppie tendono a chiamare il centro in modo da avere rassicurazioni oppure da essere indirizzate con certezza al medico curante o appunto al pronto soccorso ostetrico ginecologico una volta instaurata la gravidanza andremo quindi a strutturare il follow up in questo caso la gestione è completamente delle ostetriche per poter effettuare un follow up efficace e avere una minima perdita al follow up nel nostro centro è stata lo 0% negli ultimi 2-3 anni abbiamo condiviso e attuato una modalità per cui i colloqui vengono comunque sia strutturati secondo una procedura e vi è l'attivazione dell'equip medica e biologica non appena c'è notizia di una problematica congenita che è comunque di interesse clinico ma che soprattutto per la gravidanza da eterologa deve essere prontamente comunicata alla banca in modo da poter fare tutte le azioni necessarie tutto questo processo è anche finalizzato sia per quanto riguarda gli esiti clinici che gli esiti della gravidanza all'elaborazione e alla trasmissione annuale dei dati all'Istituto Superiore di Sanità per il quale stiamo nel programma cicli singoli e che è ovviamente obbligatorio a norma di legge e poi ho messo un e poi perché dato che comunque le persone che chiamiamo che sentiamo in gravidanza molto spesso manifestano il desiderio di sentirci la voglia di parlarci di nuovo avendoci individuato come figure che comunque sono stati di sostegno in un momento particolare dal mese prossimo partirà un ciclo di incontri aperti alla popolazione nel dipartimento materno infantile tenuti da ostetriche della PMA dalla coordinatrice da ostetriche dei corsi di accompagnamento alla nascita con le quali collaboriamo anche per il follow up e dalla psicologa che segue il centro al fine di dare uno spazio d'ascolto per le coppie in attesa da gravidanza da PMA e questo appunto ancora non è è nato il progetto ma appunto si si svolgerà dal mese prossimo metto infine un excursus su una realtà che in regione toscana è molto presente ovvero la preservazione della fertilità femminile parlo della regione toscana perché benché ovviamente la preservazione della fertilità sia possibile ovunque la nostra regione attraverso due delibere del 2015 e del 2019 ha dato la possibilità di accedere gratuitamente al percorso di preservazione per le donne sotto i 40 anni affette da neopaliasie maligne o patologie con previsione di chemioterapia radioterapia o monosoppressori quindi di terapia gonadotossica e nelle donne affette da endometriosi severa ovvero di terzo e quarto grado nel 2019 è stato quindi aggiornata questa delibera introducendo anche la possibilità di accesso per le donne con bassa riserva ovarica intesa come una conta di follicoli antrali inferiore a 4 e una MH inferiore a 0,5 nanogrammi ml per cui si è verificato un aumento nel tempo non soltanto delle preservazioni ma anche di preservazioni diverse da quella oncologica rimane comunque sempre possibile effettuare anche la preservazione volontaria che in questo caso non è compresa nei LEA l'ostetrica nel percorso di preservazione gestisce dal primo contatto in poi tutte le fasi del percorso per il primo contatto anche in questo caso oltre alla linea telefonica è stata istituita una webmail dedicata il contatto può avvenire sia da parte dei delle utenti sia da parte dei professionisti servizi come per esempio il centro oncologico di riferimento dipartimentale oppure l'OM l'onquematologia possono comunicarci segnalarci una situazione per la quale ritengono appropriato vedere magari in termini molto rapidi una persona per cui interfacciandoci subito con i medici si trovano gli spazi più appropriati in modo da fare un primo colloquio in questo primo colloquio l'ostetica insieme al medico raccoglie l'anamnesi effettuiamo un primo colloquio per capire quali possono essere i tipi di alternative da proporre e soprattutto per informare la persona di quelli che possono essere le possibilità in questo senso in modo da poterla rendere capace di una scelta informata in un momento soprattutto per le pazienti oncologiche nel quale tutto sembra essere precipitato perché nel giro di poco tempo comunque sia abbiamo una diagnosi la necessità di un trattamento chirurgico farmacologico molto aggressivo parliamo di qualche cosa che verrà dopo cioè la qualità della vita la fertilità futura e questo penso che sia un messaggio molto importante sia per la speranza di guarigione che grazie all'evoluzione delle tecniche mediche è sempre maggiore sia la valorizzazione della persona e della sua scelta il trattamento nel caso la persona possa e desideri procedere alla preservazione della fertilità non è differente da quello dei monitoraggi ecografici e biochimici che effettuiamo per l'appropriazione medicalmente assistita quello che cambia è successivamente il follow up in quanto può essere possibile continuare a seguire nel tempo l'andamento della fertilità dopo la conclusione della terapia gonadotostica e inoltre sappiamo che magari un giorno una volta terminato l'iter una volta dato l'ok da parte degli oncologi oppure nel caso non sia una patologia oncologica una volta della persona lo desidererà se non ci dovesse essere una gravidanza spontanea potrà accedere nuovamente al servizio in modo da utilizzare gli ovociti per cercare un'eventuale gravidanza per poter rendere questo percorso efficace è stata fatta una formazione specifica su tutte le neo inserite la coordinatrice effetto anche in questo caso una pianificazione giornaliera con l'individuazione della figura dedicata sia al reperimento delle informazioni via mail e se si tratta di giorni di ambulatorio anche alla gestione dell'ambulatorio della preservazione la documentazione e le modalità sono state condivise nell'equip mediante una procedura e inoltre nella cartella informatizzata c'è un'area che si utilizza anche per le gravidanze per tutte e quanti le informazioni che dobbiamo dare di handover nella quale possiamo mettere delle informazioni utili in quanto essendo comunque una equip può essere che la presa in carico non sia da parte della stessa persona ma in questo modo le informazioni sono trasparenti e possono essere comunicate in modo efficace chiedo al alla dottoressa Basile alla dottoressa Santo se come siamo messe con i tempi perché eventualmente ho portato anche due casi clinici per meglio comprendere come può essere quale può essere la complessità e le caratteristiche dei casi della preservazione ma se invece abbiamo bisogno di passare alla successiva relazione posso concludere dottoressa Piazzini hai ancora cinque minuti quindi puoi procedere in cinque minuti a esporre casi clinici ho scelto due casi due casi clinici che di cui abbiamo parlato anche al master in in PMA che sono stati dei casi abbastanza particolari allora vediamo se anche da qui riesco a mandare indietro sicuramente farò scusate che ovviamente ho fatto confusione ce la possiamo fare ecco va chiedo scusa ero andata troppo avanti dunque che cosa succede quando una persona accede al percorso della preservazione la persona che accede generalmente ha una richiesta medica nella quale è indicato il motivo per cui si effettua la preservazione in questo caso è una donna di 37 anni che accede per social freezing con BMI leggermente sovrappeso fumatrice e già nel corso dell'anamnesi insieme al medico viene fuori che ci sono delle mestruazioni molto abbondanti particolarmente abbondanti già da anni e che questa è la prima visita ginecologica che la signora effettua da un tempo abbastanza lungo per cui una volta raccolta l'anamnesi e già con questi elementi in mano il medico effettua l'ecografia office trasvaginale alla quale viene subito evidenziata una massa uterina positiva al doppler suggestiva per adenomiosi con una cavità endometriale beante per cui a questo punto si mette da parte per un periodo il percorso della preservazione in quanto deve essere fatta un percorso diagnostico appropriato per questa paziente vengono richiesti markers tumorali che per fortuna risultano negativi viene fatta una terapia con un analogo del gen NRH e un controllo dopo circa sei mesi in questo caso viene anche attivato l'internista perché ci riferisce la signora che in passato c'è stata un'alterazione della proteina C e della proteina S per cui viene attivato lo specialista di competenza in modo da poter eventualmente modificare la terapia in base a quelle che sono le indicazioni si arriva dal primo contatto che è stato ottobre 2020 a marzo 2021 dove all'isteroscopia di controllo c'è comunque sia una deformazione sempre del profilo del fondo uterino dovuta a questa massa che però grazie all'analogo del gen NRH si sta piano piano diminuendo come dimensioni per cui che cosa succede che si effettua una stimolazione e si recuperano due vociti a causa del basso recupero si è pianificata successivamente una nuova stimolazione in questo caso la stimolazione è stata effettuata poco tempo fa sono state recuperate altri tre ovociti dopodiché la signora inizierà l'iter per poter trattare al meglio la patologia è stato quindi un riscontro completamente occasionale che però ha dato la possibilità a questa persona intanto di preservare comunque gli ovociti e di poter intervenire in un momento in cui ancora era possibile un intervento appunto di tipo conservativo nei confronti dell'utero invece di questo caso è un caso abbastanza tipico di invio dal centro oncologico di riferimento dipartimentale in questo caso si tratta di una ragazza di 21 anni con una leucemia linfoblastica accusa B è in attesa di chemioterapia ed eventuale trapianto il fratello è fortunatamente compatibile è stata fatta rapidamente una stimolazione perché doveva iniziare la chemioterapia dopo pochissimo per cui l'abbiamo seguita fino al pick up di 10 ovociti tutti crioconservati e stiamo continuando a vederci ogni 6 mesi infatti la chemioterapia purtroppo non è stata sufficiente ha dovuto effettuare il trapianto che invece per il momento sembra che sia stato efficace per cui ha la patologia attualmente in remissione sta ancora facendo una terapia immunosoppressiva che sta scalando e ha effettuato durante la terapia gonadotossica un'ulteriore protezione che proponiamo a tutte le preservazioni che comunque a tutte le donne che arrivano all'ambulatorio della preservazione preve ovviamente consulto con l'oncologo che è l'analogo del GNRH al fine di poter inibire l'attività ovarica durante la terapia gonadotossica e di garantire quindi un minore effetto gonadotossico appunto sulle cellule dell'ovaio in questo caso però che cosa è accaduto che una volta terminato il GNRH c'è stata una menorrea completa abbiamo effettuato più controlli abbiamo richiesto una valutazione dell'MH ma a distanza di 6 mesi e poi di 12 mesi le ovaie risultavano compatte in questo caso si è interfacciato quindi il ginecologo per un'eventuale terapia estroprogestinica con il CORD in quanto al di là della preservazione effettuata e del fatto che comunque abbiamo degli ovociti crioconservati è comunque importante la qualità della vita e quelli che possono essere anche gli effetti a livello sistemico di una menopausa oncologica per esempio sul metabolismo osseo per cui la complessità non termina soltanto con il prelievo ovocitario e la nostra figura può diventare un supporto anche in una fase successiva nella quale laddove un giorno questa ragazza dovesse desiderare una gravidanza ha comunque 10 ovociti crioconservati che secondo quello che ci dicono le linee guida sono comunque un buon pool per poter avere una probabilità ragionevole di gravidanza ma allo stesso tempo ci prendiamo cura di quella che è la qualità appunto della della vita di questa ragazza adesso che fortunatamente la terapia ha dato la remissione della malattia quindi dopo questo excursus che mi sono appunto permessa di fare data la peculiarità della della preservazione nella regione toscana proviamo a tirare le fila di questo qual è il ruolo dell'ostetrica nel percorso di PMA nei confronti della coppia è quella di accogliere comunicare accompagnare sostenere e rispettare facilitando sia per quanto riguarda l'utenza che per quanto riguarda tutta l'equip i vari passaggi nel percorso e rappresentando un filo conduttore che si snoda attraverso questi momenti e le persone e poi come andrà a finire lo vedremo allora Francesca io ti ringrazio molto per l'interessante relazione credo che tu abbia veramente abbracciato a 360 gradi quello che è l'aspetto organizzativo l'aspetto relazionale l'interfacciarsi con un'equip multidisciplinare mettere al centro della nostra attenzione sanitaria quella che è la salute in un concetto veramente globale della donna e della coppia e veramente anche la parte finale relativa insomma ai casi critici ci ha fatto calare nella realtà ci ha fatto vedere uno spaccato di realtà italiana che non è presente purtroppo in tutte le regioni e che credo quindi sia stato anche un momento di stimolo per le nostre colleghe vi presento adesso la dottoressa Fuccetti la quale l'ho conosciuta in occasione del master è una psicologa che lavora in Toscana ma da tanto tempo ma io l'ho conosciuta proprio in occasione del master che fa qui a Firenze e insieme abbiamo diciamo deciso di affrontare la tematica il cui titolo mi ha affascinato sin dall'inizio poi Elisa si presenterà da sola però vi leggo semplicemente il titolo perché secondo me già di per sé dice tutto il titolo della sua relazione sarà curare la comunicazione e la relazione nei percorsi PMA dall'equipo multidisciplinare alla coppia infertile secondo me proprio questo legame tra le tre relazioni è fondamentale per trasmettere a tutti voi quello che era il nostro messaggio iniziale che è la non abbiamo scritto presa in carico forse è un po' provocatorio perché noi in realtà non ci prendiamo carico cioè non dovrebbe essere un peso per noi però poi Elisa magari questo lo affronta a modo suo ma oltre a prendersi carico ci prendiamo cura e qualcuno comunque deve insegnare a prenderci cura della coppia e a prenderci cura anche di noi stessi all'interno di questa relazione quindi Elisa prego buonasera a tutti innanzitutto volevo ringraziare davvero tanto la dottoressa Valentina Basile che mi ha dato questa opportunità appunto di fare questa presentazione come relatore a un webinar è davvero un onore per me quindi grazie tante grazie anche a chi ha organizzato questo momento di incontro sempre molto arricchente molto stimolante mi presento brevemente sono Elisa Carolina Puccetti sono una psicologa psicoterapeuta sistemico relazionale come diceva la dottoressa Basile sto concludendo il master in salute riproduttiva e tecniche endoscopiche nella PMA dell'Università di Firenze lavoro come Libra Professionista ho lavorato alcuni ho collaborato alcuni anni con il centro di PMA di Careggi attualmente collaboro con il centro di riferimento regionale per le criticità relazionali occupandomi proprio di gruppi di lavoro nei contesti sanitari ma anche di benessere e sviluppo delle aziende sanitarie e dei processi di cura a tal proposito vi condivido la mia presentazione ditemi se la vedete sì la vediamo come se ancora dovessi presentarla quindi con le diapositive sulla sinistra e quella centrale davanti perfetto ora vediamo la presentazione ok scusate un attimo ma devo uscire ecco la prima che vediamo è curare la comunicazione e la relazione nei percorsi di PMA quindi è la prima però in modalità presentazione no in modalità scrittura perfetto ora la vediamo in presentazione prego Elisa bene perfetto ok dunque mi collego proprio ai processi di cura no per iniziare questo webinar perché mi piacerebbe focalizzarmi insieme a voi su quella che è l'importanza proprio anche del benessere nel gruppo di lavoro e quindi anche di poter avere una buona comunicazione ma intesa come verso il paziente verso la coppia ma anche tra colleghi quindi proprio nell'equipe multidisciplinare quindi andiamo brevemente a dare una definizione di comunicazione no è il processo attraverso il quale le persone si scambiano le informazioni ma ci tengo anche a dare una breve definizione di che cos'è la relazione no si riferisce proprio alla connessione tra due o più individui ok quindi per mantenere relazioni sane positive è sicuramente importante riuscire a avere una comunicazione aperta autentica e rispettosa le competenze comunicative come diceva prima anche la dottoressa Francesca Piazzini è l'ascolto attivo attivo l'empatia e anche la capacità di risolvere i conflitti in modo che si possa costruire poi e coltivare delle relazioni significative e durature perché importante specialmente nella nostra professione è riuscire a costruire fin da subito una relazione di fiducia volevo fare un focus su l'importanza di sapere chi arriva da noi qual è il vissuto delle coppie che arrivano da noi la coppia infertile sicuramente ha dei vissuti ingombranti e traumatici quindi spesso e volentieri arrivano da noi e percepiscono la gravidanza come una ricerca ossessiva è quasi un pensiero unico e totalizzante non pensano ad altro alcune coppie possano già aver avuto dei fallimenti e quindi diventa ancor più come dire ossessionante il pensiero arrivano con una grossa conflittualità con il proprio corpo quasi che il corpo e la mente fossero separati il tema della colpa questo è tanto importante perché si ricerca sempre all'interno della coppia il colpevole se non c'è un colpevole chi potrebbe esserlo di più o talvolta se non è all'interno della coppia talvolta anche fuori anche verso i professionisti perché la coppia che arriva da noi la paziente che arriva da noi la donna che arriva da noi ha perso un ideale di famiglia ha perso l'ideale del ruolo di madre ma anche di padre talvolta proprio di poter costruire quello che loro si erano sempre immaginati il loro progetto di vita la coppia arriva con una grande angoscia rispetto anche proprio alla propria identità sessuale come capacità di procreare ha risentimento verso i propri genitori perché non hanno trasmesso il potere generativo quindi è questo sentimento di ingiustizia arrabbia vergogna tante volte le donne ci dicono ma perché mi succede proprio a me perché non sono normale perché a loro riesce rimanere incinta e a noi non riesce e noi non riusciamo a portare avanti una gravidanza e questo a volte stimola anche l'invidia rivolta a chi è riuscito poi ad avere una gravidanza la coppia arriva con un percorso di ristrutturazione della propria identità no devono cambiare diciamo così i loro piani quelli che si erano già fatti per tanto tempo e che a questo punto devono iniziare a modificare quindi c'è una diminuzione dell'autostima una ferita narcisistica no si sperimenta ansia e depressione che cosa cambia tra i vissuti qual è la risposta alla sofferenza dell'uomo e qual è la risposta alla sofferenza della donna no l'uomo soffre tanto perché è colpito nella sua virilità come se la sua incapacità di concepire un figlio potesse impedire alla sua famiglia di dare continuità alla generazione no la donna invece che cosa vive vive quel senso di inadeguatezza di non completezza a volte si sente di non essere proprio donna fino in fondo perché appunto non è in grado di procreare quindi si si colpevolizza di questo talvolta si possono isolare ovviamente si possono deprimere e possono anche non accettare una diagnosi del genere ma oggi oltre a focalizzarci sulla comunicazione verso il paziente su come costruire una buona relazione con il paziente e con la coppia a me preme anche prendermi cura tra virgolette di chi cura l'infertilità quindi di tutti i professionisti di tutto il personale sanitario che ogni giorno ha a che fare con questa diagnosi si dice che la relazione tra il professionista sanitario e il paziente sia una delle più complesse perché fin dalla prima volta specialmente nel nostro ambito siamo portati a dover chiedere delle informazioni molto intime alla coppia talvolta anche con un contatto fisico ovviamente per una visita quindi c'è un'implicazione emotiva molto grande ma anche l'importanza di poter costruire fin da subito con il paziente una relazione fiduciaria ma a volte non ci si chiede dall'altra parte se chiediamo sempre qual è il vissuto della coppia che arriva da noi talvolta lasciamo un po' da parte per probabilmente per far forza poi alla coppia quale sia il vissuto del professionista perché comunque anche il professionista viene sempre investito di una grossa responsabilità a avere a che fare con la coppia infertile quindi quanto è possibile anche tollerare questo limite per le professioni che si occupano di dare vita c'è uno spazio di pensiero per queste domande talvolta il pensiero della donna della coppia dell'ostetic dei professionisti è quello di dover riempire un vuoto anche se soltanto momentaneo ma riempire quel vuoto che la coppia percepisce della mancata generatività qual è la dinamica della coppia è il rispecchiamento nel lavoro cioè che cosa succede quando arriva una coppia infertile all'operatore sanitario e al professionista la coppia infertile arriva con il trauma il trauma della diagnosi di infertilità quindi le risposte emotive le risposte a questa diagnosi da parte dell'operatore possono essere o una risposta emotiva quindi un'iperinvestimento emotivo ti salvo da questa diagnosi cerco in qualche modo di realizzare i tuoi desideri cerco di riuscire a portare insieme a te in fondo questo processo oppure l'altro è la fuga e l'allontanamento dal dolore come meccanismo di difesa perché spesso e volentieri i professionisti si sentono appunto di creare un danno irreparabile alla coppia non sentirsi capaci di gestire emotivamente ciò che realmente sta succedendo nella coppia anche un po' il timore di dover rispondere ad alcune domande spesso e volentieri molto incalzanti della coppia non so vediamo un po' di temporeggiare perché effettivamente non abbiamo sempre le risposte specialmente che loro si aspettano di ricevere quindi la paura di essere accusati e diventare anche oggetti della rabbia della coppia perché comunque solitamente veniamo investiti di un grande ideale della coppia come salvatori come qualcuno che può aiutarli a realizzare il proprio progetto di vita si sentono anche invadenti di prendere spazio lo spazio del dolore della coppia si fanno carico del dolore della coppia e talvolta ci può essere anche un timore di un contagio emotivo perché comunque a volte la coppia arriva con una disperazione tale che tante volte anche noi facciamo fatica a poter supportare quindi come possiamo migliorare questa relazione come possiamo far fronte a a questa coppia che arriva così addolorata come possiamo far fronte a lavorare tutti i giorni con una diagnosi di infertilità quindi un dolore continuo che viene riproposto ogni volta ci sono la risposta a tutto questo e poi la vedremo dopo è sicuramente saper lavorare in un'equipe multidisciplinare e poter ogni volta riproporsi di trovare il giusto modo di comunicare quindi incentivare in qualche modo il modo di comunicare perché tanti studi ci dicono le stesse linee guida dell'escere ci dicono che fornire un supporto medico e psicologico integrato nei centri di PMA aiuta a ridurre lo stress le preoccupazioni poi relative alle procedure mediche e migliorare anche i risultati dello stile di vita un altro studio ancora ci dice che ulteriori benefici possono essere previsti in quanto il benessere dei pazienti è associato alla loro soddisfazione per le cure quindi mi sento di dire che è davvero importante soffermarsi su quanto è importante rendere costruttiva e orientata la comunicazione fra gli operatori di un centro ma non tanto soltanto rivolta alla coppia come dicevo ma anche rivolti proprio ai professionisti la qualità delle relazioni all'interno del gruppo multidisciplinare ha sicuramente un effetto benefico anche di tranquillizzare la coppia andiamo a vedere perché quali sono le caratteristiche e i vantaggi di un'equipe multidisciplinare e interprofessionali sicuramente la possibilità di trovare la diversità di competenze perché all'interno di un'equipe multidisciplinare come diceva prima anche la dottoressa Francesca Piazzini ci sono è composto ovviamente da persone con formazioni differenti quindi ci sono medici infermieri terapisti psicologi assistenti sociali quindi ci permette questo di dare anche al paziente diciamo una risposta a trecentosessanta gradi ma soprattutto di prendersi in carico il problema in maniera più completa quindi permette di considerare il paziente o il problema tenendo conto di tutti gli aspetti no fisici emotivi sociali psicologici perché essendo composta da più professionalità ci permette proprio di accogliere anche la coppia da tutti i punti di vista di cui ha bisogno no? Oltretutto sicuramente ci può essere un miglioramento della presa di decisione perché collaborare tra professionisti con competenze diverse ci aiuta anche a prendere decisioni sicuramente più informate no? Ma migliori perché comunque condivise quindi che hanno visto le varie i vari punti di vista no? Il miglioramento dell'efficienza anche per fosse soltanto per i carichi di lavoro e delle competenze no? Perché ci si possono suddividere un'equip lavora insieme quindi è disposta anche a farsi carico qualora ci sia una coppia che ha un problema specifico di prendersene cura l'adattabilità quindi la flessibilità anche ad adattarsi alle diverse esigenze che i pazienti ogni volta ci portano no? Non ultimo la comunicazione efficace come si diceva perché comunque nell'equip multidisciplinare è tanto importante poter trovare un linguaggio comune un linguaggio all'interno del quale ci si capisce tutti no? Ed è anche possibile ampliare la prospettiva perché si può promuovere l'innovazione attraverso appunto sia l'incrocio di idee ma anche l'approccio di diverse discipline no? Quindi questo ci può aiutare a portare a soluzioni più creative e più complete per i pazienti ma andiamo a vedere com'è che si può comunicare meglio dov'è che ci dobbiamo soffermare quando ci troviamo di fronte a una comunicazione da fare innanzitutto è molto importante l'empatia che cosa significa? Significa essere sensibile alle emozioni della coppia l'infertilità sicuramente può causare tante reazioni emotive no? Ma far sentire loro che il dolore è legittimo far sentire loro che il dolore è accolto da noi sicuramente per la coppia può essere un sollievo ascoltarli attentamente l'ascolto è fondamentale fargli sentire che noi li ascoltiamo no? Guardarli negli occhi mentre loro parlano semplicemente annuire con la testa ma far sentire la nostra presenza perché spesso e volentieri hanno bisogno anche di esternare tutto il malessere che loro si portano dentro no? Il rumore è che questa infertilità fa l'importante per loro è essere ascoltati quindi far capire loro che noi li stiamo ascoltando offrire un supporto emotivo qualora la coppia necessitasse di eh un un supporto emotivo per affrontare la diagnosi o per affrontare semplicemente il percorso eh è importante informarli di dei anche eh servizi che sono messi a disposizione del centro PMA per prenderli in carico da un punto di vista psicologico no? Offrire sostegno cioè rassicurarli perché tante volte ehm quello che loro cercano è una rassicurazione da parte nostra no? eh rassicurarli che affronteremo insieme questo percorso che nei momenti più critici noi ci saremo e che affronteremo insieme tutte le varie ehm sfaccettature e eh perplessità che loro avranno rispetto al percorso offrire informazioni è tanto importante no? Talvolta anche scrivendo alcune informazioni perché volentieri eh i pazienti arrivano e sono un po' confusi no? Di tutto il percorso che hanno da affrontare ehm non hanno ben chiaro che cosa c'è da fare eh quando le tempistiche queste sono una tematica molto importante no? Per la coppia e per il paziente perché loro ehm riflettono tanto su quanto potrebbe essere lungo questo momento ma quando è che potremmo fare il transfer ma quando quanto dobbiamo aspettare no? Per realizzare il nostro sogno quindi talvolta mettendo anche un po' i vari step che la coppia deve fare per iscritto sicuramente possono essere aiutati sostenere ehm le loro decisioni mh tante volte loro hanno semplicemente la coppia ha semplicemente bisogno di sapere che noi ci siamo e che qualsiasi sia la loro decisione noi eh li potremmo supportare no? Potremmo affiancarli eh in questo percorso anche rispetto alle loro scelte non condivisibili da noi ma no? Dobbiamo fargli percepire la nostra presenza mi preme soffermarmi un attimo sull'importanza della comunicazione verbale e della comunicazione non verbale no? Non so se avete mai visto l'iceberg della comunicazione ma eh questo rappresenta un po' no? La parte che esce dall'acqua è la nostra comunicazione verbale quella che ci sta sotto invece è la comunicazione non verbale che cosa significa? Queste sono che vedete qua no? La parte piccolina che esce sono le nostre parole e il linguaggio ma il messaggio che noi mandiamo è molto più complesso di così no? È il messaggio che arriva alla coppia e che arriva anche nel gruppo di lavoro no? Questo è inteso come comunicazione a trecentosessanta gradi eh il messaggio che arriva ancora più forte di quelle che sono le parole e il linguaggio riguarda il linguaggio del corpo quindi la nostra postura no? È chiaro che se mi metto a braccia concerte così ascoltare qualcuno con una mimica facciale che esprime no? Fatica o comunque sgomento è chiaro che l'altro sebbene io possa dire tutte le parole buone del mondo percepisce prima quello che è il linguaggio del mio corpo quella che è la mia espressione facciale il contatto visivo come dicevo prima no? Mentre si ascolta sempre guardare negli occhi le altre persone perché questo già ci dà il senso di essere ascoltati il nostro tono di voce anche questo può essere più o meno rassicurante non importa se è forte o basso no? L'importante è che sia presente no? Non come se stessimo dando delle informazioni proprio così perché te le sto dando lo spazio personale è lo spazio che noi lasciamo no? Tra tra noi e l'altro le espressioni culturali questo conta tantissimo no? Perché nella nostra cultura per esempio tanti gesti valgono più di tante parole no? Però in altre culture magari significano altro no? Per esempio chi gesticola tanto in tante culture vuol dire che è arrabbiato invece specialmente in Toscana noi siamo abituati no? a usare tanto i gesti e poi la postura generale no? Sempre come dire rivolta verso chi ci sta ascoltando mi premeva fare questa distinzione tra comunicazione verbale e non verbale perché è molto importante quando ci si trova poi a dover fare una comunicazione soffermarsi anche soltanto un secondo avere consapevolezza che il nostro non verbale conta quasi di più del nostro verbale ok? Soffermandosi un attimo riusciamo a porre attenzione anche su questo e credo che possa valer la pena no? Nelle comunicazioni di ogni genere soffermarsi e cercare di capire e di trasmettere ciò che veramente vogliamo dire oltre che con le parole anche con la comunicazione non verbale quindi arrivo alle conclusioni qualità comunicativa e relazionale gli strumenti a disposizione dei professionisti quali sono la capacità di ascolto domandarsi sempre come comunico cosa suscito negli altri quando comunico cosa suscita il limite dell'infertilità come mi sento io operatore rispetto alla coppia assistita quali sono le mie emozioni no? E' tanto importante come diceva anche la dottoressa Basile prendersi cura no? di se stessi come professionisti perché comunque abbiamo ogni giorno a che fare con un dolore forte no? con un con un trauma grosso no? quindi tutti i giorni è importante prendersi cura anche di noi accompagnamento della coppia e farsi accompagnare dal gruppo di lavoro altrettanto questo no? nel gruppo il gruppo di lavoro come risorsa cercare sempre delle risposte anche alle nostre emozioni nel gruppo di lavoro no? come abbiamo affrontato il trauma come gruppo che cosa avremmo potuto fare di diverso e soprattutto di che cosa avremmo avuto bisogno quindi è molto importante anche investire emotivamente nell'equipo multidisciplinare no? potersi mettere a confronto avere dei momenti in cui ehm non ci focalizziamo soltanto sul paziente sulla coppia ma anche su di noi come professionisti no? sul nostro gruppo la costruzione di una relazione di fiducia che può permettere appunto l'esplorazione degli aspetti più importanti no? di questa relazione dare e darsi un giusto tempo dedicato alla riflessione eh alla decisione all'elaborazione a volte sottovalutiamo l'investimento emotivo che noi facciamo ogni giorno nel fronteggiare tutte le varie situazioni ma invece è giusto che si inizi a porsi attenzione ehm la coppia deve sicuramente poter sentire di essere protagonista delle proprie scelte altrettanto noi appunto come dicevo prima è importante che si faccia da supporto no? per per la per la coppia e per le proprie scelte ehm alla coppia deve essere data l'opportunità di fare domande in qualsiasi momento no? e di esprimere le proprie idee su diagnosi e terapia sicuramente ci faranno la stessa domanda più volte ma è il loro timore che parla in quel momento no? è il loro disorientamento che è protagonista no? loro sanno perfettamente che stanno facendo la stessa domanda ma non sanno probabilmente come placare l'ansia e quindi l'unico modo che hanno è fare ancora quella domanda e cercare ancora una risposta diversa anche se noi non possiamo dargliela ma non possiamo togliergli l'opportunità di fare delle domande sarebbe importante appunto la formazione continua come pratica di consapevolezza professionale relazionale psicologica questo io investo tanto nella formazione ci credo tanto ho sempre lavorato nella formazione professionale per me davvero è un valore aggiunto che può cambiare l'andamento di tante situazioni grazie per l'attenzione grazie 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 mille Elisa grazie grazie a tutti i relatori puoi interrompere la condivisione per favore Elisa così almeno vi vedo perfetto almeno vi vedo e vi sottopongo un paio di domande che ci hanno scritto qua giù in chat la prima l'avevo già letta all'inizio e ve la rileggo lentamente così magari ognuna di voi la dottoressa Nibali la dottoressa Piazzini la dottoressa Puccetti danno un po' quella che è la risposta secondo diciamo il loro punto di vista all'interno di una visione multidisciplinare allora salve a tutti spesso la coppia viene da me a chiedere delucidazioni in merito a quello che gli è stato detto nel colloquio col medico quindi vi chiedo se vi date un ordine anche di relazioni in merito a questa richiesta cosa vorreste dire alla collega che ci dice se la signora fa tutto il percorso col medico come mai poi viene da me vuole delucidazioni cosa devo fare dove mi fermo e dove inizio io la interpreto un po' così prego dottoressa Nibali allora vabbè in realtà noi abbiamo anche il ruolo di collegamento di anello di collegamento tra il medico e la paziente perché perlomeno nella mia realtà capita stesso che la paziente si senta più tranquilla a parlare con me ha più difficoltà a chiedere spiegazioni al medico e quindi tace ascolta e va via poi chiama riferendomi anche a quello che ha detto la dottoressa Piazzini sono io a rispondere alle telefonate delle pazienti che chiedono spiegazioni delucidazioni anche a mezzanotte a luna quasi orario del giorno e della notte spesso appunto il medico incute questo timore dice quindi va bene ho capito vado a casa via quando arrivo a casa poi ci penso ci penso mi rendo conto di non aver compreso chi amo chi chiamo l'ostetrica nel nostro caso con lei mi sento più tranquilla la vedo più vicina a me più più predisposta a comprendere quella che è la mia esigenza quindi credo che sia una realtà da quello che mi è sembrato di capire nell'arco di questi anni anche attraverso il nostro gruppo di ostetriche ogni qualvolta ci incontriamo nei vari congressi mi sembra di capire che davvero noi ostetriche per le pazienti siamo l'anello fondamentale che consente loro di accettare il percorso di andare avanti con più serenità quindi giusto farlo e nostra competenza rientra nella nostra professionalità non so se sbaglio ma questo è quello che io ritengo sia parte appunto del nostro compito nell'assistenza assolutamente parole sante dottoressa Piazzini vuole collegarsi alle parole di Daniela molto volentieri e penso che Daniela sia stata assolutamente esauriente farei una riflessione su quanto sia proprio importante la presenza dell'equipo multidisciplinare perché già il fatto di essere presenti ci può aiutare a cogliere quelli che possono essere anche segnali non verbali del disagio della non comprensione e magari nel cercare un contatto anche successivamente durante un momento come l'educazione terapeutica per dire è tutto chiaro quello che ci siamo detti avendolo comunque ascoltato e quindi potendo avere delle informazioni di tipo di tipo diretto benissimo dottoressa Puccetti manca la visione appunto di un altro professionista prego sì sicuramente appunto come dicevano le le colleghe prima è importante proprio è il valore aggiunto dell'equipo multidisciplinare la possibilità appunto di poter dare delle risposte e quindi vale la pena poter investire su questo e continuare a fare un buon lavoro in equip ho un'altra domanda piccante e qui forse la dottoressa Puccetti ci aiuta un po' di più perché mi aspettavo e sarebbe stata una mia curiosità quando riuscire un po' a mettere il freno infatti la collega ci chiede è sbagliato il rapporto così confidenziale tale da per esempio a volte pur capendo magari i limiti del sistema dare anche un proprio riferimento personale o dare la disponibilità anche fuori la sede lavorativa beh questo è un tema sì esatto abbastanza caldo nel senso che tutto dipende un po' dalla relazione che si viene a instaurare ma soprattutto anche da che cosa di che cosa qual è il bisogno che la coppia ci sta chiedendo no? qual è il bisogno che sta nascosto dietro a questa richiesta no? io mi soffermerei un po' su questo prima di procedere magari a dare il numero di telefono o instaurare un rapporto più confidenziale no? perché laddove è possibile soddisfare le esigenze della coppia nel centro PMA sicuramente può valer la pena perché poi dopo rischia il rischio è che questi limiti poi sia ancora più difficile metterli quindi la disponibilità va bene ma se riusciamo ad avere una buona comunicazione a instaurare una relazione di fiducia e a far sì che la coppia si possa fidare di noi penso che questo sia il valore aggiunto di poter dire fidati non importa no? sentirsi ancora più confidenziali perché se no dopo il rischio è che questo limite venga prevaricato per qualsiasi cosa ok benissimo poi mi verrebbe a volte ad aggiungere se si prova a lavorare bene dall'inizio forse si contiene successivamente tutta una serie di ansia e di preoccupazioni successivamente sono assolutamente d'accordo per questo dico con una buona comunicazione secondo me si riesce a contenere no? anche questo e fermarsi sempre su quale bisogno va a soddisfare questa richiesta ok c'è la dottoressa Nibali che ha alzato la mano vuole intervenire a questo dibattito sì volevo chiedere alla dottoressa Puccetti e quando invece è l'operatore che è troppo empatico che si porta i problemi a casa come fare a gestire poi tutto questo quando è l'operatore che piange perché la paziente non ha il trasferimento perché la paziente che ha fatto la diagnosi da impianto a tutti gli embrioni aneubloidi come dobbiamo gestire noi stessi visto che è stato anche argomento della sua relazione assolutamente anche questo un argomento di fondamentale importanza no? è proprio nella mia relazione mettevo in luce forse non sono stata abbastanza chiara nel senso che sarebbe bello poter condividere tutto questo nel gruppo no? eh potersi anche affidare al gruppo qualora ci siano delle risonanze molto forti negli operatori no? perché noi ci concentriamo sempre sulla coppia sul benessere della coppia sul vissuto della coppia no? ma talvolta è proprio come dici tu no? eh ci ci portiamo a casa un carico emotivo molto molto come? no no stavo ci portiamo a casa un carico emotivo davvero davvero importante ma la possibilità di condividere e di analizzare insieme questi vissuti questa questo investimento emotivo può aiutare veramente tutti a lavorare meglio no? e anche portarsi a casa forse un carico un pochino meno pesante ho sempre un'altra domanda che andiamo sempre un pochino sul piccante ma meno come e ve la leggo innanzitutto vi ringrazio e diversi stanno facendo i complimenti per il contenuto della giornata che ha suscitato grande interesse e c'è una domanda che chiede la mia domanda è ci sono metodi che avete utilizzato o che utilizzate per capire quando la comunicazione è passata e quindi quando il mezzo comunicativo cioè come avete comunicato sia effettivamente stato compreso no? da chi sia di fronte ci sono possibilità per fare un tipo di formazione ad hoc rispetto al counseling in questo ambito che percorsi formativi possiamo eventualmente fare? beh sicuramente sulla seconda parte eh dottoressa Cuccetti anche frequentare master ad hoc come quello che sta frequentando dove ci sono equip multidisciplinari che si mettono a confronto e condivisione di esperienze tra pari intesi come professionisti ma con professionalità diversa aiutano a crescere secondo me assolutamente sì assolutamente sì anche ad acquisire competenze trasversali no? nel senso che non non sono soltanto competenze tecniche ma ci aiutano anche a capire come fare una buona comunicazione all'interno di un centro di PMA no? quindi eh si lavora tanto anche nelle competenze trasversali quindi mi viene da dire assolutamente sì e per quanto riguarda insomma l'essersi assicurati che chi è di fronte a noi abbia capito se non tutto dei messaggi perché sappiamo che è come a volte fossero un po' in una nuvola no? queste coppie ma che perlomeno i messaggi importanti siano stati eh recepiti in modo tale da o evitare per esempio errori terapeutici o altre situazioni del genere quali suggerimenti pratici dareste alle colleghe? dunque io lavoro tanto con la comunicazione non verbale no? nel senso che ehm l'atteggiamento del paziente che ho davanti della coppia che ho davanti mi dice tanto di quanto loro hanno recepito il mio messaggio di quanto è chiaro ciò che eh stanno dicendo no? ehm a un certo punto è proprio un escurso su un modo di atteggiarsi no? a un certo punto si vede che da eh una un'ansia forte iniziale poi dopo piano piano la coppia si tranquillizza perché gli vengono date informazioni magari chiare che loro riescono a recepire magari poi si siedono sulla sedia anche un pochino più comodi no? allora lì è già un un atteggiamento che per me è rassicurante mi fa capire che stanno capendo che siamo in relazione che abbiamo costruito una relazione di fiducia che loro si stanno fidando di me e che quindi posso dare le informazioni perché a quel punto il livello di ansia si è abbassato e loro sono più disponibili a recepire tutto quello che io gli sto dicendo sicuramente ehm evito di dare informazioni quando il livello di ansia è molto alto perché eh spesso e volentieri arrivano talmente disorientati che non sono in grado di capire che cosa sto dicendo in quel momento quindi tendenzialmente la prima cosa da fare e capire ehm come tranquillizzarli e poi cercare di costruire quella che dicevo all'inizio una relazione fiduciaria no? Attraverso la comunicazione attraverso una buona comunicazione Bene grazie vuole aggiungere qualcosa della dottoressa Piazzini? Vedo che ha alzato la mano Sì grazie mille e condividendo assolutamente quello che ha detto la dottoressa Puccetti credo che siano fondamentali proprio nella nella pratica la condivisione e l'ascolto la condivisione diciamo il covid ci ha fatto capire quanto per esempio sia più fragile da questo punto di vista una persona sola al posto della coppia che ci troviamo davanti infatti avere davanti due interlocutori di cui magari una persona può essere in quel momento anche più concentrata su altri aspetti sulla notizia però magari c'è il partner o la partner che invece riescono a capire meglio quello di cui si parla non è infrequente nel momento in cui parliamo tra le coppie che poi si veda l'uno o l'una che spiega all'altro guarda allora hai capito dobbiamo fare in questo modo e quindi qui viene la seconda parte ovvero l'ascolto perché va bene riempire va bene spiegare ma poi darci un momento per tacere da ascoltare e capire se ci sono dei rimandi o anche delle dei tipi di atteggiamenti non verbali è molto importante per comprendere se siamo riusciti a trasmettere in modo efficace quelle informazioni oppure no bene grazie mille un ultimo spunto di riflessione che è un po' la sintesi della domanda che ha fatto un'altra collega il tempo c'è tiranno in PMA il tempo è tiranno nel percorso per le coppie per i tempi che dedichiamo alle coppie per noi che siamo pochi ed abbiamo poco tempo quindi qual è la ricetta io credo non ci sia una ricetta ditemelo anche voi ma credo che sia trovare provare a trovare un equilibrio anche in questo caso continuare a crederci continuare a far capire anche alle organizzazioni sanitarie quanto è importante il tempo di relazione che è tempo di cura non soltanto il tempo dell'assistenza diretta perché tutto ciò in cui investiamo durante il percorso di PMA anche sulla relazione terapeutica è tempo investito successivamente in termini di chiarimenti sulla terapia di disagi di difficoltà di rimandi anche a consulenze di persone più esperte quindi io vi ringrazio tantissimo perché credo che questo sia stato un importante momento di confronto primo tra tanti quindi continuate a rimanere con noi e a seguire perché continueremo a fare questi gruppi di confronto con i GIS anche con vari professionisti per coloro che hanno chiesto le diapositive vi informiamo che da lunedì sarà possibile rivedere l'intero webinar sul sito SIRU nella sezione video e sul nostro canale YouTube quindi in modo gratuito e pubblico quindi chi volesse riguardare anche le diapositive proiettate ha questa opportunità dottore dottoressa Santo vuole aggiungere qualcosa credo che non non abbia da aggiungere altro se le relatrici vogliono aggiungere altro prego altrimenti io vi saluto tutti al prossimo webinar grazie veramente per questo momento prezioso benissimo allora buonasera davvero grazie grazie e a presto e a presto grazie arrivederci ciao buona serata buona serata a tutti buona serata grazie